Musica Nuovo appuntamento con parola al direttore, il nostro monitor sulle notizie più importanti che hanno fatto più discutere direttamente dalla redazione di Libero con il direttore editoriale Vittorio Feltri, bentrovato direttore Grazie, un saluto a tutti Parto subito purtroppo ancora ai noi dal coronavirus, sembra quasi che anche nell'estate 2020 non ce lo scrolliamo di dosso abbiamo sentito la proroga dell'emergenza, allora facciamo un piccolo riassunto della situazione, come la sta ricependo lei direttore? Mi sembra di capire che ormai il virus non abbia più l'aggressività iniziale, per cui sono fiducioso da questo punto di vista qualcuno teme che in autunno ci possa essere una nuova ondata, ma le malattie ci sono sempre state e anche il raffreddore non è mai stato debellato complessivamente, però nessuno muore più di raffreddore quindi penso che succederà, spero che succederà così anche per questo micidiale virus che in effetti ha ha frenato il nostro paese e ha provocato tanti brutti che hanno suscitato disperazione in molte famiglie La proroga dello stato di emergenza però secondo lei è un atto dovuto? Era utile? Come recepisce tutto ciò? Sì, però c'è da dire che hanno preso questa decisione senza svelare il perché, hanno nascosto e segretato addirittura i documenti, il che mi sembra poco democratico, un paese civile fa le cose alla luce del sole e non nelle cantine di Palazzo Chigi Io sono solita dividere in più fasi, come facciamo tutti però, le mie personali fasi del coronavirus sono le seguenti, inizialmente abbiamo un po' sottovalutato tutti la situazione Poi abbiamo affrontato tutto con un po' di caos e poi con accettazione Adesso, secondo lei direttore, non siamo tornati nella fase un po' del caos si è visto anche quello che è accaduto sul fronte dei trasporti con una decisione di prorogare sempre il distanziamento sociale quindi questo provvedimento un po' all'ultimo momento che ha creato molti disagi Sconcerto anche, perché la gente vorrebbe avere chiarezza e invece qui non c'è nessuna chiarezza perché un giorno dicono una cosa, poi il giorno dopo ne fanno un'altra e la gente non capisce più niente Io stesso ormai ho perso ogni contatto con questo governo che fa delle cose a capocchia, secondo me però in linea di massima non è che l'Italia si sia comportata male tanto è vero che le stragi maggiori sono avvenute in altri paesi tutto sommato siamo riusciti a combattere il virus non capisco tutte le critiche che sono state fatte alla Lombardia che era normale che fosse la più colpita visto la densità abitativa siamo in tanti, viviamo solo a Milano ogni giorno arrivano 3 milioni di persone è ovvio che la vicinanza ha creato molti problemi mentre al sud dove un paese dista dall'altro almeno 15 km le cose sono andate meglio le critiche a Fontana secondo me non riguardano tanto i famosi camici che poi nessuno ha pagato quindi non vedo dove sia lo scandalo ma quando hanno scoperto che il governatore è una persona ricca che ha molti soldi contanti, molte proprietà immobiliari e questo ha scatenato un'invidia sociale e l'invidia sociale sforcia sempre nella criminalizzazione di chi ha un po' di soldi in qualche modo un'indagine a carico di Fontana era attesa perché come detto la Lombardia è stata molto criticata nel periodo del coronavirus di conseguenza anche il governatore si è andata così e trovo veramente sbagliato perché inizialmente nessuno sapeva come affrontare il virus non avevamo le informazioni gli stessi virologi hanno inscenato qualcosa di buffo perché non ce n'erano due che avessero la stessa opinione andavano in televisione, ciascuno diceva la sua e poi non sappiamo bene chi ci avesse azzeccato o no però peggio del virus c'erano i virologi ancora oggi sono il peggio i virologi secondo lei direttore? insomma in effetti ancora oggi quando li sento in televisione a parte che ripetono sempre le solite pippe e poi no, non mi pare che ci abbiano azzeccato molto alla fine è stato quello del San Raffaele non mi ricordo il nome Zangrillo Zangrillo che infatti è un anestesista eppure è quello che ci ha capito prima di tutti beh in questo momento effettivamente c'è Zangrillo che sostiene che il virus è passato però per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che questa epidemia continuerà ancora lungo sì, ma l'Organizzazione Mondiale non si riferisce ma certo alla Lombardia no per fare discorsi molto generici non mi sembra che si sia comportata benissimo l'Organizzazione Mondiale della Sanità così come certe azioni del nostro governo si sono rivelati addirittura buffe perché un giorno sul treno puoi andare il giorno dopo invece bisogna tenere le distanze non si capisce più niente no, e infatti i disagi dei cittadini che erano pronti per partire e sempre poi nel weekend no, diciamolo chiaramente la gente è incazzata beh ha ragione anche perché le cose succedono sempre nel weekend ci hanno abituato durante il periodo del coronavirus a fare conferenze stampa nel fine settimana di notte di notte a mattina alle 6 cioè no, siamo impazziti bisogna, ecco Conte Conte come lo giudica? nel senso che poi affrontiamo anche altri argomenti io sarò felice solo nel momento in cui lui sarà costretto ad andarsene io non lo reggo però sta festeggiando per l'accordo in Europa lei ha festeggiato direttore io non festeggio i debiti è assurdo fai un debito e festeggi perché poi i debiti peraltro vanno saldati i soldi che ti prestano li devi restituire e dove andrà a prendergli i soldi se no ci sono Conte ha detto l'Italia riparte chiaramente questi soldi arriveranno però solo l'anno prossimo l'Italia ha bisogno di ripartire oggi come potrebbe ripartire l'Italia oggi? guarda, l'Italia è già ripartita basta esaminare i dati industriali noi siamo più avanti della Germania in questo momento abbiamo una progressione più veloce quindi fare sempre del catastrofismo non va bene fra l'altro nella matinfattura noi siamo il secondo paese d'Europa nella vendita del cemento siamo il secondo paese d'Europa tutta l'industria parlo di quella grossa non del terziario che quello è messo male sta producendo aritmi vertiginosi e quindi c'è una crescita che è da stupidi non raccontare è perché alimentare il pessimismo significa solo alimentare anche la depressione e questo è sbagliato l'economia ha bisogno di entusiasmo e mi sembra che i dati diano ragione a me mentre faccio questi discorsi non si può fare lo stesso discorso per quanto riguarda il terziario mi riferisco ai bar, ai ristoranti è normale se gli uffici non ci sono più perché la gente lavora da casa nelle città i bar a chi servono? non c'è più nessuno che va a pranzo a mezzogiorno non c'è più nessuno che frequenta i bar o comunque è diminuita molto la gente questo è un problema vero però ci vorranno ancora 4 o 5 mesi e tutti quanti riprenderemo le nostre vecchie abitudini sì, anche se qualcuno sostiene che l'idea di lavorare da casa sia una strada percorribile lei non è dello stesso parere? no, io penso che quelli che facevano poco in ufficio adesso a casa non fanno niente posso fare da una parte un po' il bastian contrario dall'altra parte servirle sul tavolo un'altra dichiarazione fatta in questo caso dal ministro dell'economia Gualtieri che ha detto guardando i dati proprio macroeconomici di cui ha parlato lei ha detto beh vedete che l'Italia non è più il fanalino di coda è vero non è più il fanalino di coda il mio essere bastian contrario invece voleva andare proprio nella direzione opposta cioè perché tornando all'accordo europeo abbiamo visto che comunque all'Italia sono stati concessi più soldi rispetto ad altri paesi allora mi viene da dire beh ma sono stati concessi perché l'Italia forse è messa peggio di altri paesi non è d'accordo beh il criterio dovrebbe sempre essere quello cioè aiutare chi sta peggio questo però quando si parla di prestiti non è un grande aiuto no perché dovremmo ridare i soldi eh devi restituirli per restituirli li devi guadagnare e siccome invece questo governo sembra nemico degli imprenditori dobbiamo dire che nonostante questo gli imprenditori sono molto più bravi dei governanti quindi ce la fanno lo stesso però ci sono le piccole aziende che sono in difficoltà ma erano quelle già in difficoltà prima perché se un'azienda dopo tre mesi di chiusura non è più in grado di avere un centesimo nel cassetto vuol dire che faceva già schifo questo mi pare sì diciamo che il coronavirus è stata solo la botta finale la botta finale certo è che però dobbiamo ammettere che anche gli aiuti che a volte sono doverosi insomma stentano ad arrivare ci sono persone che ancora anche laddove magari promettono soldi a tutti ma i soldi non arrivano perché non ci sono appunto però quanti bonus abbiamo sentito di tutto di più bonus biciclette il bonus del monopattino ma queste sono vacanze adesso c'è l'eco bonus ma sono tutti idioti idioti anche perché poi se non arrivano i soldi poco poco contano metterlo nel rosso piano le promesse quando viene sulle navi famose promesse del marinaio ma in pratica non servono a niente senta parlando di temi più squisitamente politici anche facendo un collegamento se vogliamo con il tema di Fontana e Lombardia Fontana che è sotto osservazione diciamo può rappresentare per lo che do lei un colpo abbastanza duro per la Lega così ci buttiamo sul gradimento dei partiti in questo momento sembra che anche Salvini tra i suoi non sia più gradito come una volta ma è tutto da vedere e nello stesso tempo abbiamo un rilancio di Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che è salita non è un rilancio è una costante progressione quella della Meloni perché è una persona seria affidabile piace perché pur essendo una donna non ostenta un'eccessiva eleganza non è scosciata insomma è una persona seria che fa dei discorsi positivi che convincono un sacco un sacco di gente per quanto riguarda la Lega anche qui c'è una fandonia perché è la notizia proprio di oggi che il tesseramento della Lega ha sfondato quota 100.000 e questo significa che c'è un aumento di coloro i quali si era detto il contrario però direttore allora è tutto non vero no 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 infatti dico il giornale di San Martino riporta noi il Libero riporta questa notizia è vero naturalmente Salvini ha un po' diciamo deluso gli italiani perché nessuno ha capito per quale motivo sia venuto via dal governo lui non è stato capace di dare una spiegazione convincente quindi poi vedere Salvini che polemizza su piccole cose sciocche che non mette la mascherina tutte queste che sono sciocchezze però determinano anche un po' di antipatia che probabilmente ha contagiato anche il suo ambiente poi quando stai lontano dalle decisioni importanti come succede a lui in questo momento non incidi più né in bene e neppure nel male però è chiaro che quando manca l'entusiasmo manca anche il consenso comunque rimane il primo partito italiano ancora sì mentre quelli di bravi come il Movimento 5 Stelle ormai stanno raschiando il barile il fondo del barile senta è tornata un po' alla ribalta il tema dell'immigrazione per quello che sta accadendo a Lampedusa qualche giorno fa hanno chiesto a me e lo chiedo anche a lei perché l'ho pensata quando mi hanno fatto questa domanda mi hanno detto Manuela ma secondo te il tema dell'immigrazione è direttamente proporzionale al covid al coronavirus dopo le dico se vuole cosa ho risposto io lei cosa mi risponde cioè il fatto che arrivino immigrati anche positivi al coronavirus ma che soprattutto riescano poi a scappare vengano perché siamo cretini perché prendiamo questi disgraziati molti sono malati e poi però sui teleni invece dobbiamo stare distanti 20 metri l'uno dall'altro quindi c'è una contraddizione io sono del parere che andrebbe scoraggiata scoraggiato l'arrivo di questa gente e invece non si fa nulla si continua a parlare di rimpatri ma i rimpatri non si riescono a fare tanti fatti mi pare 80 o 800 in un anno che non è niente in confronto agli arrivi e quindi io sono convinto che il virus adesso arriva con loro ma anche dai Balcani arriva quindi bisognerebbe bloccare tutto bisognerebbe bloccare anche le frontiere dell'est e lì ha ragione Federica il governatore della Lega di Frivolata e invece non si fa niente e si continua a dire bisogna fermare l'immigrazione ma nessuno la ferma poi addirittura quelli che l'hanno fermata come Salvini vengono processati e allora siamo veramente è quasi una comica una tragica commedia Conte adesso ha detto però saremo irremovibili non possiamo più permetterci di far arrivare l'unico irremovibile è lui è lui irremovibile perché non si possono fare elezioni siamo in estate lui praticamente si è preso i pieni poteri il Parlamento non conta più niente e quindi cosa vuoi fare in tutto questo quindi le elezioni le vede lontane lei direttore non crede tanto adesso c'è diciamo così l'estate è in corso quindi non se ne parla neanche poi arriva l'autunno ci sarà la finanziaria sì diciamo che il periodo autunnale infatti lei ha ricordato quello che è successo l'anno scorso con Salvini che ha fatto cadere il governo ma era estate perché poi in autunno è impensabile far crollare tutto quindi arriveremo fino a fine legislatura secondo lei con il governo contenuto io non ho la sfera di cristallo non posso fare previsioni di questo tipo constato che Conte è aggrappato come ledera e quindi è difficile da rimuovere dal punto di vista della sua popolarità come sempre succede ai presidenti del consiglio è molto alta ma questo non vuol dire niente perché lui non ha neanche un partito bisognerà vedere quello che succederà direttore le chiedo ancora due cose una riguarda proprio lei ha deciso di dire addio all'ordine dei giornalisti io mi sono dimesso non ho ancora ricevuto una comunicazione dell'accettazione delle mie dimissioni però grazie al mio avvocato che è bravissimo che si chiama Cristina Rossello sono riuscito a fare a zerare tutti i procedimenti che erano in corso contro di me quindi già questo è un risultato notevole ma io anche se non sarò più processato io dall'ordine me ne vado perché io non sono un canarino che sta in gabbia quella è una gabbia di matti per l'altro se non mi piace andare in gabbia da solo figurati con i matti io preferisco mandare tutti all'inferno e chi mi chiamerà giornalista sarà querelato per diffamazione Urca quindi io non sopporto più l'organizzazione dei giornali non credo di averla chiamata giornalista in questa intervista altrimenti mi becco continuo a essere direttore editoriale perché il direttore editoriale può essere anche un geometra io faccio quello poi sono consigliere d'amministrazione quindi insomma ha proseguito vuole vedere chi? chi mi ammazza va bene e adesso le devo chiedere però l'ultima cosa perché guardi alla fine questo è il nostro appuntamento parola al direttore è diventato una chiacchierata no? c'è ma c'è ancora le posso dire che agosto non è il mese per i fidanzamenti è d'accordo perché c'è l'estate si va in giro e poi chiudere tutto anche in città è diventata difficile fa caldo fa caldo poi c'è ancora il coronavirus eccetera eccetera quindi dobbiamo rimandare di nuovo e però la volta scorsa lei mi aveva detto beh al posto di andare in borsa non so se si ricorda andiamo da un'altra parte allora si è creata un po' di curiosità perché abbiamo messo un bip sulla parola direi che invece che trovarci a palazzo a mezzanotte si può trovare il bip vogliamo svelarla o lasciamo la curiosità ai nostri amici? ma io lo direi ma diciamo perché qualcuno era spiritoso guardi qualcuno ha tirato a indovinare è uscito un po' di tutto le devo ammettere non era niente di scandaloso però dove voleva andare con me direttore? al motel ma non ci siamo andati però purtroppo no qualcuno ha indovinato però devo dire la verità qualcuno ha indovinato qualcuno ha sveglio va bene allora direttore però ci tengo a sottolineare che sono battute scherzose anche servono per alleggerire un po' questi discorsi pesanti che facciamo assolutamente sì anche perché oggi in realtà non voglio chiudere con una ulteriore domanda pesante ma insomma siccome ci rivedremo quando ripartirà tutto dopo questo periodo estivo che cosa si aspetta dalla ripartenza insomma navigheremo ancora un po' a vista beh quello è inevitabile però io sono confortato dalla ripresa industriale perché è la grande industria che fa la traino poi il resto è quasi una conseguenza mi auguro che il terziario riprenda perché il terziario è una voce importante per i nostri bilanci va bene allora ci rivediamo prima dell'autunno dai al termine di questa estate al motero qua non rispondo questa volta non rispondo salutiamo i nostri chissà chissà vediamo arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie.